Continua a crescere il numero dei positivi al covid-19 nella città di Torre del Greco. Sale a 53 il numero di positivi nella giornata di ieri, 52 dei quali in isolamento domiciliare e un solo in regime ospedaliero. Si registra anche un decesso, si tratta di un classe 1939. Sale a 38 invece il numero delle guarigioni nella cittadina torrese. A Torre Annunziata invece sono 27 i nuovi casi covid a fronte dei 332 tamponi effettuati. Si registrano inoltre 17 guarigioni. Sono quindi 913 i cittadini attualmente positivi, di cui 41 con variante inglese, con un rapporto tamponi positivi che resta all'8,13%. A Ercolano invece sono 5 i nuovi casi di positività a fronte di 5 guariti, lasciando così invariato il numero dei positivi che al momento si attesta a 42, tutti manifestanti la cosiddetta variante inglese. Tutti i soggetti positivi sono asintomatici e in quarantena presso le loro abitazioni. A San Giorgio a Cremano sono 215 i positivi, con 3 nuovi casi registrati nella giornata di ieri. Sono 31 i positivi alla variante inglese, 6 di questi in età scolare. Resta alta quindi l'attenzione dei comuni vesuviani, che vedono crescere la curva dei contagi, che in Campania ieri è giunta a quota 10,08% nel rapporto positivi tamponi.